Buongiorno, ben trovati e ben alzati, sono le 7.30 di mattina, come sempre consueto appuntamento con la carta stampata, occhio ai giornali, naturalmente prima di fare ciò sfogliamo, però anche vediamo il santo del giorno e le previsioni del tempo. Oggi è San Giovanni Bosco, sacerdote, sabato 30 gennaio, il sole è sorto alle 7.26 e tramonterà alle 17.17. E allora, ecco le previsioni del tempo per oggi sabato, il cielo è poco nuvoloso, aumento della copertura nella tarda mattinata e maggiore nuvolosità nelle zone interne. Le precipitazioni fanno la loro comparsa nelle ore centrali della giornata, anche a carattere di rovescio, però come vedete dalla simbologia più che altro nel settore meridionale e naturalmente nel settore interno. Il limite delle nevicate è intorno ai mille metri, le temperature sono in diminuzione. E domani vediamo giornata cruciale perché a Fano c'è il carnevale, la prima sfilata del carnevale, quindi vediamo se il tempo sarà clemente, con l'ente carnevalesca il cielo è parzialmente nuvoloso e alternanza di schiarite e annuvolamenti però più che altro nelle zone interne, vedete nella simbologia sulla costa e sulla nostra provincia non dovrebbe comparire, usiamo sempre il condizionale la pioggia, almeno stando alle previsioni della protezione civile, i piovaschi sempre più sparsi più che altro nelle zone interne, invece il limite delle nevicate scende a 600 metri, le temperature sono abbastanza stazionarie. Vediamo lunedì, lunedì cielo poco nuvoloso, poco da dire, maggiori addensamenti nella mattinata, anche qui deboli piovaschi, però nei settori meridionali. Vediamo la tendenza per i giorni successivi, settimana ancora l'insegna della variabilità, del tempo naturalmente e la presenza di un vasto sistema depressionario sull'Europa sententrionale determina quello che è il clima in questi giorni. Allora, vediamo i giornali per oggi, iniziamo naturalmente dal resto del Carlino e poi andiamo a vedere via via anche il resto. Il resto del Carlino che dedica ampie pagine, ampio spazio al carnevale, come ho detto poc'anzi, domani inizia la prima delle tre domeniche di carnevale a Fano. E allora, grande tema e annoso direi ogni anno, ombrelli sì, ombrelli no, insomma gli ombrelli sono sicuramente pericolosi, il carnevale di Fano è contraddistinto dal getto di dolciumi, quindi che viene raccolto non solo a piene mani ma anche a pieni ombrelli rovesciati, che sono però un pericolo perché effettivamente chi sta vicino a una persona con un ombrello, soprattutto se rovesciato, può incorrere in spiacevoli incidenti. E quindi domani inizia un carnevale in sicurezza perché il sindaco vieta ombrelli e bombolette spray che non sono sempre molto gradite, usate i prendigetto, riunioni in prefettura sugli aspetti logistici, così l'ordinanza, le stecche di metallo sono pericolose e lo spray rende il terreno scivoloso e quindi siccome c'è appunto molto movimento di persone che vanno avanti e indietro per Viale Gramsci rincorrendo i carri, insomma se il terreno sotto è scivoloso possono incappare in cadute e in spiacevoli episodi, quindi trasformare una domenica gioiosa e di festa in una domenica poco felice. E quindi insomma queste sono due ordinanze che il sindaco ha emanato appunto per evitare questi problemi. Eppora i nodi della pesca, l'assessore Giannini a difesa dei vongolari, dopo la Lega Nord si muove anche il PD, la questione proposta all'attenzione del Ministro Martina. L'Europa non ci considera queste le considerazioni dell'assessore Giannini. Andiamo a vedere un'altra pagina che riguarda il Carnevale che ha scatenato un po' di polemiche perché insomma si tiene un importante evento collaterale legato quest'anno al Carnevale che è il Palabrodetto. Però il Palabrodetto scontenta qualcuno e allora vediamo c'è naturalmente il Palabrodetto ma anche assieme ad esso le proteste perché il titolare di un altro locale dice io volevo fare la scorsa estate tre serate nello stesso punto sempre con un gazebo ma il permesso mi è stato negato e quindi insomma rivendica una struttura adiacente dove c'è il Palabrodetto questa cosa e quindi dice due pesi, due misure, non mi sembra corretto. e poi insomma leggete l'articolo di Anna Marchetti c'è tutta la vicenda riportata qui. La struttura servirà a 140 persone nelle serate delle sfilate, 20 euro il menu di pesce per questa particolarità del nostro territorio. E allora emergenza abitazioni a fondo pagina, madre e figli rischiano di finire in mezzo alla strada e il 3 febbraio in consiglio si discutirà della moratoria però il gruppo Lotta per la Casa rimanda uno sfratto con questa siting, con questa protesta però soltanto fino al 9 febbraio. Ancora continuiamo nelle pagine del resto del Carlino però ci spostiamo a Marotta per la questione del passaggio a livello un passaggio a livello che dovrebbe essere naturalmente chiuso a favore di un'altra struttura. E allora vediamo Marotta, altre firme per le modifiche, passaggio a livello, battaglia continua vedete qui il comitato che si occupa, che lavora sulla soppressione del passaggio a livello l'incontro che è avvenuto lunedì sera, che si terrà lunedì sera nella sala Ciriechi proiettora e svela la città, i lavori che saranno portati come progettualità e naturalmente saranno anche svelate alcune criticità. Cronaca, vedete qui all'atere della pagina del resto del Carlino, a Saltara un 33enne di Cinelli arrestato dai carabinieri perché spacciava davanti al Bancomat così mi paghi meglio, però ci sono le telecamere davanti ai Bancomat quindi non è stata proprio una idea felice. Pergola, continua la battaglia tra giunta e opposizione, solo la mensa è inattivo gli altri servizi sono in perdita. Allora abbandoniamo le pagine del resto del Carlino, andiamo nell'altra testata disponibile oggi che è il Messaggero, vediamo la prima pagina del Messaggero e qui viene riportata una questione che non fa felice Pesaro e anche gli operatori commerciali di Pesaro perché si parla di Expo e c'è grande rabbia perché viene allontanata dalla scelta di chi andrà all'Expo una grande fetta di imprese di Pesaro e il sindaco Ricci dice una scelta assurda, la regione è lontana dalle esigenze dei territori il dirigente Orseti, possibili ingressi di altre aziende ma basta campanilismi quindi due versioni della questione, fotonotizia quella dedicata allo sport Miley vicino al rientro ma si blocca il lungo, il lungo sarebbe il centrale quello che una volta veniva chiamato il pivot, la VL in ansia per l'Orant e invece qui di lato la provincia soffre, serve subito la legge di riordino tagliolini e gambini, i problemi incombono, possiamo aspettare, non possiamo aspettare fino alle elezioni, naturalmente si parla di elezioni regionali rovesci e brevi schiarite, questa è la sentenza del meteorologo Massimiliano Fazzini sulla prima pagina del messaggero e grande risalto, risalto giustamente dovuto per le regionali che si terranno a maggio sulle pagine del messaggero e allora le primarie, naturalmente primarie in vista delle elezioni il terzo PD, Fioretti raccoglie le firme per Paolini quindi pagina dedicata alla politica l'area di Civati decisa ad esserci a tempo sino a sabato prossimo per raccogliere le 2000 firme necessarie e vedete Giuseppe Paolini che è pronto a raccogliere le firme per questa corrente del partito ancora nelle pagine del messaggero ed eccola qui la notizia della negazione l'Expo negato, questo è il titolo di aziende che non sono presenti all'Expo e Ricci, il sindaco Ricci, mostra tutta la sua rabbia nella pagina del messaggero polemico appunto il sindaco dopo il no alle imprese persaresi la regione appunto è lontana le istanze del nostro territorio non vengono raccolte e quindi insomma sicuramente non è un biglietto da visita nessuno dei nostri l'imprenditore Scavolini naturalmente conosciutissimo per via del basket ma anche per la sua grande impresa di cucina insomma nessuno dei nostri è presente proprio strano questo è il suo commento laconico la Camera di Commercio però cerca di recuperare almeno un'azienda si pensa alla Piero Guidi naturalmente oltre ai problemi legati all'Expo ci sono quelli legati al lavoro uno di questi rovesci di medaglia è insomma le tasse e l'IMU naturalmente maxi sconto IMO a chi affitta i negozi ai prezzi delle case questa insomma è una proposta il Comune usa la leva fiscale e prova a ripopolare i 300 locali vuoti nel cuore della città ma in cambio chiede canoni concordati questo è una risvolta però c'è anche un'altra questione che viene trattata nelle pagine di Pesaro e Urbino una questione che noi conosciamo bene e che sarebbe appunto la ferrovia che passa anche attraverso Fano e allora l'entroterra scommette sulla ferrovia la commissione di studio della Fano Urbino chiede ufficialmente la revoca della dismissione della tratta l'appello sostiene la mozione dei Verdi che martedì dovrà essere discussa e votata in consiglio regionale e quindi insomma una battaglia per questa tratta che non si capisce bene che fine farà insomma diverse proposte pista ciclabile rimessa in sesto del tratto ferroviario insomma vedremo come finirà intanto qui il sindaco Gambini e professionisti uniti nella lotta perché dicono appunto è un'opportunità per il territorio ultima pagina a disposizione quella del messaggero di Fano la guardiamo subito presidio per bloccare lo sfratto quindi la questione che abbiamo visto anche nelle pagine del Carlino a Metaurilia picchetto degli attivisti dell'assemblea per la casa e qui nell'occhiello c'è l'assessore Mascarin intanto il comune l'assessore Mascarin appoggia la proposta di moratoria e chiede ai consiglieri di convalidarla questo darebbe respiro insomma a chi è sotto praticamente lo stallo dello sfratto anche qui di fianco la questione dell'aeroporto l'aeroporto un pezzo di terra complica il trasferimento praticamente c'è stato l'annuncio che il parco dell'aeroporto si farà perché è stata ceduta questo pezzo gli 30 ettari di terreno che erano del demanio all'amministrazione comunale ma c'è un piccolo neo si scopre che c'è una piccola particella di terreno che è ancora del demanio militare e quindi dovrà essere ceduta anche questa nell'articolo c'è tutta la vicenda allora la memo gestione a chilometri zero cambia la gestione del caffè all'interno della memo è andato alla cooperativa Gerico quindi eco e solidale sarà il caffè il bar affidato alla cooperativa sociale Gerico al lavoro anche i disabili bene con quest'ultima notizia del messaggero si chiude qui questa rassegna stampa per oggi sabato che torna naturalmente lunedì presente alle 7.30 come sempre un saluto anche a chi ci segue in replica alle 9.10 e alle 13.30 buon sabato e arrivederci a stasera per l'edizione di Occhio alla Notizia alle 20.30 per l'edizione di